Ah, lo vediamo come se fossimo dentro il parco, ma è bellissimo No, che bello Vero? È bello, sì Vero? Molto bello Grazie, grazie E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki Io sono Steph, e questo giochiamo a Planet Coaster E buona vigilia di Natale a tutti Siamo qui e ovviamente cercheremo di costruire il nostro parco giochi a tema natalizio Esattamente, guardate, è mezzogiorno del 24, siamo a casa a registrare, che bello Ma dobbiamo farlo per voi per darvi episodi natalizi e soprattutto video anche a Natale Abbiamo deciso di fare Planet Coaster anche se non vi era piaciuto troppo Perché? Perché abbiamo visto l'aggiornamento natalizio È fantastico E sinceramente ragazzi, a tema Natale, questo batte tutto Cioè, proprio, qualunque gioco vi viene in mente, qualunque cosa vi viene in mente, questo lo batte Proprio 10 a 0 Sei pronta a vederlo? FeriNiki non ha visto nulla Esatto Proprio mezzo secondo, stiamo già per piangere Sei pronta? No, no, io voglio la sorpresa perché le sorprese sono le cose più belle a Natale Quindi, oh mio Dio Oh mio Dio Sei serio? Cioè, ci sono le case fatte di dolci! È il mio sogno, vedi questo? Sì Se noi compreremo mai una casa, dovrà essere come una di queste Tipo come questa qui in fondo, guarda Questa tutta con i cuoricini Ma non è reale Ma io la voglio Quindi sei fanno e poi ti mangi un muro Ma non è reale Sì che si può vivere Non può esistere Sì che puoi vivere libero No, si scioglie Io ti dimostrerò che si può vivere dentro una casa fatta di mazzatane Sì che si può No, grazie È bellissimo Guarda i biscotti Guarda Zoomami questi biscotti, ti prego Questi? Sì, la famigliola di biscotti che fa il pupazzo di neve Ho il pupazzo di caramelle Perché secondo me un pupazzo di caramelle è bellissimo Queste sono chiaramente caramelle È bellissimo Mi sa ce ne viene un po' di fame Non vorrei essere crudele ragazzi Ma ho un po' voglia di assaggiarvi No Comunque Qua cosa è successo esattamente? È stato investito È stato investito un biscotti Disgraziato Ma perché? È quello è felice È felice di averlo investito No, in questo villaggio sono tutti felici Guarda Almeno l'hai scioccata, vedi? Ah Almeno uno Ti vorrei far notare un'altra cosa Dimmi Che i pacchetti regali sono cioccolatini Uh Abbiamo deciso Visto che non stavamo capendo bene cosa fare lì Di farci il nostro parco natalizio E non capiremo bene neanche che cosa fare qui Nel bene e nel male Noi faremo un parco natalizio Allora Allora A Natale siete tutti più buoni Quindi se ci esce una schifezza Non ci incolpate Noi ci stiamo mettendo tanto amore Proveremo a fare delle decorazioni natalizie carinissime Nei commenti Hashtag Parco Natale Bello Partiamo dall'entrata del parco Perché ovviamente bisogna creare Quel punto da quale Passano tutti quelli che entrano Nel nostro bellissimo parco Eh certo, certo Che deve essere proprio già subito Un Tutto un'emozioni natalizie Secondo me Tra i due che ci sta proponendo Quindi tra questo e questo Questo qui è più bello Guardate già che bello È già bellissimo Cioè io verrei in questo parco Solo per l'entrata Solo per questo Solo E mi sgobberei uno dei due schiaccianoci Non si ruba Mo porterei a casa Non si fa Non si fa Tipo io pensavo Senti me Sì dimmi Guarda che cosa carina che prova a farti E tu lasciami No però mettili dritti No lasciami fare Ok Sì vai Per ora fammi provare Poi vediamo Questo è stranissimo Non mi piace Non capisco dove è l'entrata Non mi piace È troppo strano per noi Lo so che per ora ancora non capisci Quello che voglio fare Mi stai per criticare Perché è tutto storto Mi stai dando fastidio Le cose storte Mi danno fastidio le cose storte Lo so Mi devi infastidire il giorno di Natale Io te lo dico eh Allora secondo me invece Sai come li devi mettere Aspetta No ti voglio dare un attimo un consiglio Sì dai Metterli così Tipo a cerchio Capito Quindi un negozietto che fanno un po' così Gli altri che fanno un po' così In modo che accogliano per i clienti Allora Per ora mi fai provo Ma si accende Bellissimo Eh sì Però mi hai notato Ho già pure le candele Che poi c'è un cliente Non me l'ho accorto Eh vabbè Il primo cliente Scusi non è ancora pronto Non è ancora pronto Tra un po' sarà pronto Ti piace questo Pat Per cambiare un po' nei negozi Eh sì Guarda Guarda dai Sì 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 Ok Allora ti dicevo L'ho messo al contrario L'ho messo al contrario Facciamo un po' di decorazioni Sì sono d'accordo E inizierà già a sembrare tutto un po' natalizio Allora Vedi qualcosa di bellino Eh guarda qui è pieno Tipo ma questi Ah sono piccoli piccoli Ok meno male Perché pensavo fossero giganteschi Ma secondo me quelli si mettono nell'albero Perché ho visto che c'è l'albero vuoto E probabilmente tu lo devi decorare Quello è fantastico Ok ci voglio assolutamente provare E potremmo che provare a mettere un alberello Magari tre due negozietti Tata Ok Sì dai è carino Ok è vero Sì 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 Poi magari uno qui così Giusto per ingannare un po' E secondo me qui al centro Vedi che tra questi due percorsi Se non rimane brutto Io ci metterei Qua No qui da questa parte Tra questi due ci metterei un bell'albero Quindi qui Sì Secondo me è carino Allora Vediamo un attimino Christmas Tree Allora magari uno più No Oh Mamma mia Siete matti Bellissimo Quindi questo Che bellino Un po' più al centro Un po' più al centro però Un po' più qua Un po' più lì Un po' più qua Un po' più quello Un po' più l'altro Oh mamma mia No Aspetta Allora Qui ragioniamo Regali ovunque Sto scherzando Dimmi No esagera Ma perché sono tutti dello stesso colore No no tranquillo Ah Li posso modificare Possiamo fare il pupazzo di neve Questo gioco è la cosa più bella del mondo Allora qua abbiamo fatto così Guardate abbiamo cambiato i colori dei pacchetti Questa luce di notte sarà fantastica I pacchetti sono tutti diversi Abbiamo aggiunto un secondo biscotto Qui abbiamo messo queste luci così belline Le abbiamo messe anche qua E poi avevamo messo i fiocchetti Alle varie stecchette di caramelle Sì li abbiamo aggiunti Noi è fantastico Che ci stanno troppo bene Che li puoi aggiungere Allora iniziamo a costruire il nostro pupazzo di neve Di fronte all'albero Cioè per forza Qua così Sì 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 Perfetto E poi ti aggiungiamo pure il classico naso Però abbiamo qualche problema A rotteare le cose A rotteare gli oggetti Vedete questo parte così E non riusciamo a rottearlo verso su e giù Allora Cerchiamo come ci fa No ma un cappellino di Natale Non c'è Scusa Siamo a Natale No E allora gli mettiamo quello Sì Sì Allora facciamo rosso Come sei precisina È rosso È rosso Sei proprio precisina sinceramente Sì mi piace fare le cose bene Va bene E che bellino che sei È troppo bellino Mi piace Vorrei farle le braccia Ma non ci riusciremo mai Eh questo è bellino No dai no Non c'entra nulla La pipetta Dov'è finita Eh no Niente Abbiamo sto problema con gli oggetti Dobbiamo arrangiarci così per ora Allora Dopodiché abbiamo fatto il pupazzo di neve Che altro potremmo fare Perché è davvero pieno di cose natalizie Sì non finiremo mai Ogni volta che scrolliamo un po' Ne troviamo altre Faciamolo Oh mio Dio Dobbiamo metterlo Allora Fammi vedere un po' Che c'è Eh vabbè che bellino Questa a fianco Questa a fianco La mettiamo Però da questa parte Così Perché È solo una testa È bellina A fianco al pupo Ok dai ci sta È l'amico Che non ha tutto il corpo Non ha avuto la fortuna di avere un corpo intero Vabbè tanto lui non ha Nel naso Nel braccia Quindi mi sa che Sono proprio amici Sì Stavo guardando un po' le cose per Natale E Guarda cosa puoi arrivare a creare È talmente grosso Che non ce l'ha caricato subito Guarda No vabbè Puoi fare anche il parco Futurissimo Ma hai visto che ha sparato Guarda Vedi Oh mio dio Ma è bellissimo Fantastico No ci sono troppe Poi c'è la roba western Puoi fare proprio i parchi a tema Cioè no è bellissimo Io adoro sto gioco Io lo amo Spero che i consolini apprezzeranno questo episodio natalistico E ci chiederanno di farci qualche video ogni tanto Perché mi piace troppo Comunque abbiamo bisogno dei bagni Quindi ci mettiamo Assolutamente Magari I bagni E tipo secondo me da questa parte qui così Ok Ti piace Prima di entrare alla giostra Esatto Sì Così va bene Sì vai 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 Metti Poi ci facciamo il pat Certo Mettiamo sempre A me piace questo qua Celestino Ho notato Ho notato che ti piace molto È proprio un debole Cioè questo parco è natalizio È solo Solo edifici Solo edifici Tipo No però sei il contrario Aspetta eh Non capisco dove è l'entrata Dov'è l'entrata? Secondo me non ce l'ha Questa 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 è l'entrata Però lo teniamo così Guarda che bello che è così Qua è un albero super natalizio Sì assolutamente Bellissimo Qua ci saranno tutti i pacchetti regalo Ho già deciso Da questo lato mettiamo un sacco di soldatini Sì Dei massi tipo così Sì Capito per dare un po' No lì sono troppo grandi Perché ho messo decorazioni Qualcosa di un po' più piccolo anche Questo è bello però Quello che ho già messo Sì no quello lì ci sta bene Ok tipo questi Sì lì vedi ci stanno bene piccoli Mentre invece negli spazi più ampi Magari è meglio Ok Tipo così sì Così sì Va benissimo Ha senso Ha senso Ha senso Stiamo andando d'accordo di nuovo Guarda Esatto Meno male che stiamo tornati Ad essere d'accordo su qualcosina Perché stavamo litigando davvero un sacco E mi sembra giusto Non sei capace Farei un parco bellissimo io Non sono capace Però dai sto scendo bene Non sono capace Cioè me lo stai guardando questo parco No non sei molto capace dai Made by Steph Cioè non vorrei Proprio si chiama così Sì sì Made by Steph No in realtà è tipo Parco giochi Natale Consolini No l'hai chiamato Natale con i Consolini Natale con i Consolini Neanche si ricorda il nome che dà il suo parco Era bellissimo Non sei un bravo costruttore Era un nome meraviglioso Quindi dicevamo Adesso voglio fare Ok Sei concentrata Sì concentratissima Facciamo la parte prima dei soldatini Che è più facile Sì 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 Sono d'accordo Voglio rimettere anche questa campanella Da qualche parte Ma non saprei dove metterla Guardate che meraviglia che abbiamo fatto Spettacolare Spettacolare Devi ammettere che questo parco è bellissimo Questo è bello Questo è bello Sì 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 Grazie Grazie Dovremmo poter fare una cosa fighissima Ok Vediamo se ci riesco Ah lo vediamo come se fossimo dentro il parco Ma è bellissimo No che bello Vero È bello sì Vero Molto bello Grazie Grazie Però cioè scusami Sì Hanno lasciato i rifiuti sui cestini Sopra però Lo devi buttare dentro però eh Io te lo dico Non dare fastidio Quello sono io Quel pirata sono io ragazzi Non so se l'avete visto Quello con il capello della pirata È il mio personaggio Sì 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 Oh bello Quindi anche tu ti stai visitando Ma guarda che meraviglia Molto bello Poi ti sembrano tutti felici Guarda corrono tutti super sorridenti Beh mette allegria una roba del genere o no? È certo che mette allegria Quanto ci vorrei andare in un posto del genere Comunque questo gioco pensa tutto Cioè anche poter vedere in prima persona È tutta un'altra cosa Assolutamente Se capisci meglio cosa hai fatto Cosa non hai fatto Ho capito infatti Qual è il problema adesso Abbiamo bisogno dello spazzino Sì No assolutamente E qua soprattutto ci potrebbe essere Babbo Non c'è No me lo dovete mettere Però Babbo Natale Scusami eh Vabbè prendiamo prima di tutto lo spazzino Perché non c'è Babbo Vai spazzino Vi siete dimenticati di Babbo Sì Ne devo mettere un po' da tutte le parti Perché hanno fatto una schiffezza ovunque Guardi E finalmente abbiamo scoperto il tasto Per modificare la direzione Leggi controlli e non mi ascoltava Io vorrei dire Vorrei dire questo Vorrei dire questo Chiedi di chi parli Allora quindi possiamo mettere le braccine All'albero di Natale Sì E possiamo mettere anche le lucine Quindi direi di partire subito con le lucine Che anche quelle non riuscivamo a mettere dritte Esatto Quindi Oh mamma mia Belle Ora sì che si ragiona Mamma mia Ora sì che si ragiona Sì due anche dall'altra parte Eh guarda che carine Belle Sprillucicano tutte Fantastiche Poi Magari anche qualcun'altro Cambiamo forma Cambiamo forma Eh ma questa è gigante È troppo grande Eh vabbè Eh ma questa è ancora più gigante È il nasino Il nasino La carotina è sotto Vai Ecco Ora sì che sei bellissimo Finalmente ti abbiamo dato Una forma decente Sei bellissimo Anche cosa gli stai mettendo Era un fiocchetto Ok ci siamo L'abbiamo fatta L'abbiamo fatta anche tutta rossa Perfetta Vediamo com'è Vediamo com'è Ah ma è di quelle che dondola Credo No fa anche cose strane Vedi inizia a girare Ma sinceramente non sto capendo Aspetta Ah ok Fa su e giù e poi gira È il tappeto Ok È fighissimo però Non l'avevo mai vista Una giostra così È fighissima Se pure è una musichetta da ladino È bellissima Fantastica E poi tecnicamente quelle di sotto Infatti sarebbero le nuve Dovresti farlo a colore di nuvole Capito Sì Perché sono le nuvole Tu voli Bello 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 Ci è piaciuto molto Complimenti Comunque direi che ci fermiamo così Per questo video E come vi abbiamo già detto Nella live Ma per chi non ha visto la live Ve lo diciamo anche qui Domani 25 Usciranno due video A tema natalizio Il primo sarà su GTA E hanno messo la neve Hanno messo i vestiti natalizi Hanno messo Un lanciarazzi Che fa fuochi d'artificio Quindi In quel video Ci sarà tutto questo È bellissimo È una figata pazzesca Quindi assolutamente Ve lo dovete guardare E poi come secondo video Uscirà Roblox Con due escape A tema natalizio Davvero davvero carini Quindi domani Festeggeremo il 25 Insieme a voi Con due video natalizi Diciamo che vi teniamo compagnia Perché sappiamo Che i pranzi sono infiniti E quindi Magari vi guardate un video nel mezzo Un video nel mezzo Tra una portata e l'altro Può far comodo Quindi faremo uscire due video Anche domani Vi auguriamo tantissimo Buon Natale Divertitevi questi due giorni E noi ci divertiremo tantissimo E aprite tanti regali Giustissimi Regali sono la cosa migliore Ma bisogna pensare Allo stare insieme Allora Io lo so che tutti Stiamo aspettando la mezzanotte Per aprire regali Cioè tutti dai Parliamoci chiaro Lo sappiamo tutti Quindi Cioè La voce della verità È giusto È giusto Bene che si riesce così E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Di iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao